Questa possa essere una metodologia che dobbiamo perseguire nel corso delle prossime settimane per tutto il territorio della regione per l'anno, perché deve partire dal basso una programmazione territoriale coerente con le problematiche del territorio e come dire, anche da questo versante non solo sviluppare una responsabilizzazione dell'istituzione età politica a definire strategie chiare di sviluppo e di attestare la spesa pubblica nazionale, regionale e europea su strategie chiare e definite, perché in questo modo noi possiamo ricostruire un nuovo modello di regione. Vedete, una regione che sta attraversando una delle crisi più difficili del territorio generale, una delle crisi più difficili del territorio, tutti i fondamentali dell'economia di regione sono in grossa difficoltà. Un grandissimo.